Ragazzi, era dal primo marzo, da dopo la partita con la Lazio, che io aspettavo questo momento, che io dicevo che qualsiasi squadra avremmo preso ai quarti di finale, sarebbe andata così. E c'è ancora il ritorno, dove ci massacreranno questi ragazzi. Questi a ritorno, ci massacreranno malissimo! Vi do un dato statistico, velocissimo, velocissimo. Quando Pioli è arrivato al Milan, De Rossi era ancora un calciatore. De Rossi ha preso una squadra che è venuta a Milano a gennaio. E quella partita poteva tranquillamente finire 5-1. Che nessuno avrebbe recriminato niente. Oggi viene a Milano con una squadra che poteva vincere 5-0. E noi saremo stati zitti a testa bassa. Vedete l'esonero? Il signore esonero cosa porta? Il signore esonero porta questo. Il signore esonero, ragazzi. L'amatissimo signore esonero. Ci sono due allenatori. Uno ha vinto un trofeo nazionale e uno ha vinto un trofeo internazionale. Chi è stato esonerato? Quello che ha vinto il trofeo internazionale. E quello che l'ha rimpiazzato, allenatore ad interim, oggi è venuto a Milano. E ha dettato legge. Ma i ragazzi, lo sapevo che oggi sarebbe andato così. Perché voi, nell'ultima partita, basta di pescare i miei video, io nel post partita non avevo niente da dire. Perché vi prendevo per il culo. Perché non potevo dirvi, beh, sì, in effetti Milan sta giocando bene, si merita quello, si merita quell'altro. Perché so, perché so, che non era il modo giusto di affrontare le cose. E oggi si è palesato che tutti i problemi non se ne sono mai andati. Perché oggi abbiamo fatto una partita degna di quella che abbiamo fatto con l'Udinese, con l'Atalanta in Coppa Italia, che ha tirato in porta una volta tutta la partita. Quando a Firenze, nel primo tempo, e vi parlo di una settimana e mezzo fa, non di sei anni fa, di una settimana e mezzo fa, vi ho detto, guardate, che nel primo tempo, è vero che abbiamo vinto, ma nel primo tempo abbiamo sbagliato sei gol a porta vuota. Quando vai in Europa con la Roma, questo non lo puoi fare. Eh no, però devi vedere che abbiamo vinto, perché abbiamo vinto di qui e di là. Oggi si è arrivato che l'occasione veramente ghiotta per fare gol è stata una e l'hai stampata sulla traversa. Io non sono qua per parlare di arbitri oggi, mi viene in mente il fuorigioco, cose varie, perché tu sul calcio d'angolo sei stato fermo come tantissimi gol che ha preso quest'anno da calcio d'angolo e sei stato fermo come sempre. Quindi non voglio parlare di arbitri, voglio parlare di come ha preparato la partita e poi non voglio nemmeno passare per quello che non dà mai merito agli avversari. Perché Oromoji non ha giocato una bella partita. Oromoji gioca una partita bellissima. Ma ciò non ti giustifica dal fatto che tu devi scendere sul cazzo di campo nel tuo cazzo di stadio dove 75-80 mila persone hanno pagato il biglietto per vedere te per vedere te e gli devi dare uno spettacolo degno di quello che hanno pagato che tu questa partita come ti mettono una tattica a te avversa come una squadra prepara una partita a un minimo difensiva. Non ci capisci più nulla. Ditemi voi, adesso, adesso, l'esonero se non deve essere palese. Se non deve essere palese che è a giugno. Io voglio un cambio su quella panchina. E è da maggio 2022 che dico che i pioli sulla panchina del Milan non ci può più stare. Stavamo alzando lo scudetto che dicevo, guardate, tutto bello. Ma le altre squadre faranno dei passi avanti. E no. Invece no. Ci accontentiamo di cose vinte sei anni fa. A questo punto se avete i coglioni richiamate Montella perché ha vinto la Supercoppa e rigorico la Juventus. Se avete coraggio fate quello perché su questa linea state camminando. Io non voglio salire sullo stesso treno il prossimo anno. Io non voglio salire sul treno che son dovuto salire l'anno scorso. Che siamo arrivati quinti in campionato. Che abbiamo perso la Supercoppa senza neanche giocarla. Che siamo usciti in semifinale di Champions League. Massacrati. Non voglio salire sul treno di quest'anno. Dove la Champions League siamo usciti ai gironi perché abbiamo pareggiato due partite dove abbiamo dominato. Dove siamo usciti in Coppa Italia perché è tirato una volta solo in porta. Dove ti sei giocato lo scudetto ottobre perché hai voluto pareggiare l'Ace a Napoli e perdere con l'Udinese. E poi perdere col Monza dopo. Pareggiare a Salerno. Perché se tu quei risultati litili fossi portati a casa i 5-1 nel derby sarebbe ininfluente oggi. Sarebbe solo un dato statistico. E invece no. Hai voluto fare ancora peggio. Sullo stesso treno dove quest'anno andrei fuori ai quarti di finale con la Roma che con tutto rispetto ha una rosa ha una rosa di giocatori buoni molto buoni. Ma io sinceramente a livello tecnico tolti Di Bala tolti Lukaku e tolti Selic perché mi tocca giocare con quella salma sportiva di Calabria mi terei tutti i miei. Mi tengo Mignan mi tengo Tomori mi tengo Ternandez mi tengo Benazer mi tengo Leao tranne Di Bala e Lukaku io mi tengo i miei. Ma stamani hanno dimostrato l'esatto contrario. Sono venuti a Milano e hanno dettato legge legge ragazzi. questo Milan da che mondo è mondo quando le cose si fanno serie Pioli non ha mai fatto il salto di qualità non lo ha mai fatto mai mai a ottobre abbiamo il filotto Paris Saint Germain Juventus Napoli fai un danno dietro l'altro a gennaio hai tutte partite medio facili tranne Atalanta in Coppa Italia e Roma in casa Atalanta in Coppa Italia fai una delle peggiori partite della stagione poi però ovviamente il distacco con la prima non lo puoi colmare rimane l'Europa League che giochi contro degli scappati di casa allora lì ti illudi io io mi chiedo veramente quanto venite pagati per essere illusi quanto venite pagati per esultare per le vittorie con il Lecce quanto venite pagati per esultare per le vittorie con l'Empoli per esultare con lo Slavia Praga per esultare con il Verona quanto venite pagati per esultare quanto venite pagati per gasarvi perché se venite pagati bene mi unisco mi unisco che due soldi non fanno mai schifo e oggi quando il Milan quando il vero Milan dovrebbe venire fuori uso sempre il condizionale perché tanto il vero Milan non viene fuori mai con quel flaccido di merda in panchina ci cagliamo addosso ma ragazzi io l'ho detto inizio live l'ho detto da dove la ripescare ma tanto nel recapri domattina uscirà tutto adesso abbiamo due settimane tre settimane e mezzo di inferno Roma Sassuolo Roma Inter Juventus e non dico eventuale semifinale perché siamo già fuori siamo già fuori segnatevelo siamo già fuori in queste tre settimane e mezzo quali partite pensate di vincere? col Sassuolo forse bisogna andare laggiù e vincere vi ricordo col Sassuolo zona di retrocessione ha isolato allenatore magari quella la vinciamo pure del resto pensate di andare a Torino e vincere? pensate di vincere il derby? no ragazzi mi dispiace mi dispiace però sapete questo periodo è sacro santo da un lato perché questo periodo vorrei che dimostrasse all'altro 50% di tifosi del Milan che hanno il prosciutto sugli occhi che è momento di cambiare che noi il vero Milan il valore di questa squadra con quest'uomo in panchina non lo vedremo mai non lo vedremo mai quel valore lì e vorrei che anche la metà di tifosi che lo difende perdesse tutte le partite che gli rimangono in carriera dentro e fuori dal Milan speriamo dentro il Milan ancora poche se si aprono gli occhi se si accorgono della realtà un secondo vorrei tanto vedere se queste 5 partite anzi io mi auguro domenica di perdere col Sassuolo così vedete veramente qual è il vero Milan che è mano a quest'uomo quelli hanno avuto coraggio avevano un allenatore che ha fatto bene poi ha fatto male poi ha fatto malissimo poi non ha portato i risultati asperati non li ha portati si sono rotti i coglioni e l'hanno mandato via non importa quali fossero le conseguenze l'hanno mandato via con dobbiamo arrivare a giugno a maggio perché a giugno ci sono gli europei per fortuna così il campionato finisce prima dobbiamo arrivare a maggio e hanno trovato uno che adesso li porta in semifinale d'Europa League esattamente così ci si vede con la reazione domattina bella roba grazie grazie per farci vivere queste cose qua grazie grazie a tutti